Secondo le loro convinzioni, i DPCM emanati nel corso dell'emergenza sanitaria rappresentavano un attentato contro la Costituzione dello Stato, un abuso d'ufficio e una violenza privata. E per manifestare il proprio dissenso non solo hanno denunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma si sono spinti fino a progettare, costruire e fare esplodere una potente bomba artigianale davanti al centro per l'impiego di Avellino. I carabinieri del Rosso hanno arrestato questa mattina due persone ritenute simpatizzanti dei movimenti spontanei popolari. Si tratta di Ubaldo Pelosi, 51 anni, e Carmine Bassetti, 48, ai quali viene contestata, tra l'altro, anche la finalità terroristico-eversiva. L'ordigno è esploso il 20 maggio 2020, dieci minuti prima della mezzanotte, provocando ingenti danni, un attentato per gli inquirenti e anche per il GIP di chiara matrice eversiva, messo a segno appena qualche giorno dopo la fin del lockdown. Una bomba, rudimentale ma potente, venne posizionata in un cestino che si trovava all'ingresso del centro, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il tragitto percorso dagli indagati a bordo della loro vettura e i loro passaggi registrati dai sistemi di video e sorveglianza. L'ordigno, inoltre, sottolinea ancora il GIP, era idoneo a distruggere vetri antisfondamento da un centimetro e così fu. Era in preventivo, inoltre, un nuovo attentato che, per fortuna, non è stato messo in atto. Dopo l'avviso di garanzia, uno degli indagati viene intercettato mentre chiede al suo interlocutore di avvisare un avvocato, lo stesso che ha redatto la denuncia nei confronti di Conte, e soprattutto il generale Pappalardo, che per i PM identificano in Antonio Pappalardo, leader del movimento dei gilet arancioni.